21 novembre 2022, commissione congiunta tra la prima commissione e la quarta commissione permanente, faccio un saluto al presidente Maurizio Nerini, un saluto a Riccardo Buscemi che oggi sostituisce Giuseppe Colicchia che è assente e giustificato, saluto tutti i commissari, il sindaco Michele Conti, Raffaelea Trofa, assessore, dirigenti Marco Berrazi, Claudio Sassetti e Giuseppe Bacciardi. Daulio non lo vedo, mi sembra invece che Antonella Mini si sia anche lei collegata, infatti saluto anche lei. Do la parola adesso al segretario, mi dice a Luca per lei l'appeto, grazie. Allora, commissari della prima commissione, Barbuti Brunella. Presente, buonasera a tutti. Dion Di Marco. Presente, buonasera. Converzano Alberto. Presente. Dini Emanuela, assente giustificata. Nerini Maurizio. Presente. Punzo Maria. Presente. Simonetti Rosario. È presente però al momento non è collegato. Rosario, sì, per cortesia risponde l'appello e apre il video per farsi vedere. Andiamo avanti. Ok, Tolaini Alessandro, assente giustificata. Trapani Matteo. Assente. Assente. Membri della quarta commissione. Auletta Francesco. Sì, presente. Buscemi Riccardo. È presente Riccardo? Sì, è su. Buscemi. Abbiamo fatto l'appello, Buscemi. Ma si vede, dai. Ok. Collecchia Giuseppe, assente giustificata. Cognetti Paolo. Al momento assente. Di Gaddo Benedetta. Presente. Mannocci Gino, delega Punzo Maria. Punzo Maria. Presente come prima. Perfetto. Nicolai Francesco, presente. E Serpoglio Andrea. Presente. Andiamo a chiamare Rosario Simonetti, si vede, si dà la sua presenza, apre il microfono. Presente. Riccardo Buscemi, si dà la sua presenza. Ci dà i problemi di collegamento. Allora, andiamo avanti. Oggi l'ordine del giorno. Iniziamo con l'illustrazione sulla proposta di liberazione avente come oggetto DUB 2022-2024, modifiche e integrazioni del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, sesta variazione, e del programma viennale degli acquisti dei beni e servizi 2022-2023, quattro variazioni del, sono la numero 73-2022. Dò la parola all'assessore Affenatropi, l'iniziale, illustrare innanzitutto il, per quanto riguarda la sesta variazione. Grazie. Grazie Presidente. Come lei ha appena detto, procederò con l'illustrazione di misa in due parti. La prima costituisce la sesta variazione di modifiche e integrazioni del piano triennale ai lavori pubblici 2022-2024, mentre la seconda parte sarà dedicata a modifiche e integrazioni ed è la quarta variazione del programma biennale degli acquisizioni di beni e servizi 2022-2023. Lo schema è quello che ormai è consueto di, diciamo, illustrare prima le variazioni apportate sia nella spesa che nell'annualità riguardante gli interventi dei lavori pubblici e nella seconda parte invece quelli che vengono introdotti ex novo sempre nel piano triennale. Quindi parto con l'illustrazione e tra l'altro, dico in premessa, è ingenerata dalla necessità di aumentare alcune poste e dalla avvenuta constatazione che alcune altre, essendo ormai a novembre e trattandosi dell'annualità corrente 2022, non era possibile realizzarle in questi ultimi mesi e quindi vengono in parte traslate, in parte diminuite di importo per poi essere modificate nelle prossime annualità. Il primo intervento, il numero 16, edifici comunali istituzionali, opere di impianti, viene aumentato di 100.000 euro e quindi da 400.000 euro iniziali viene portato a 500.000 euro per poter realizzare ulteriori interventi sull'edifici comunali e istituzionali, tra cui alcuni interventi monotentivi per la ex sede della circoscrizione San Giusto-San Marco, quindi un aumento di 100.000 euro. Il secondo e il terzo riguardano invece scuole elementari e scuole medie, nel primo caso diminuito di 480.000 euro e nel secondo di 375.000 euro, con la stessa considerazione, ovvero quella che la ripresa delle attività scolastiche, con la ripresa delle attività scolastiche si prevede che non saranno effettuati ulteriori interventi importanti nelle scuole elementari e nelle scuole medie, stiamo parlando ripeto dell'annualità 2022. Poi l'intervento 54, relativo agli edifici storici comunali, manutenzione e adeguamento diminuito di 117.500 e viene portato all'importo di 182.500 per compensare le risorse necessarie per i nuovi interventi e per gli incrementi agli interventi esistenti introdotti con la presente variazione che vedremo nel seguito. L'intervento 61, piscina comunale, manutenzione straordinaria, diminuito di 30.000 euro e apportato a 45.000 euro con la stessa motivazione appena detta. L'intervento 64, impianti sporti minori, diminuito di 125.000 euro portato all'importo di 425.000 euro, sempre con la stessa motivazione. L'intervento 75, edifici comunali non ERP, aumentato di 50.000 euro e quindi portato a 100.000 euro per la necessità di intervenire sull'edizia comunale non ERP. Poi l'intervento 134, in analogia con quelli visti per le medie e per elementari, diminuito di asili nido, manutenzione straordinaria adeguamento, diminuito di 200.000 euro. L'intervento 236, il famoso nuovo scalo dell'anno in prossimità della cittadella, per un importo di 500.000 euro, attualmente previsto nel 2022, traslato nel 2023 per poter anche continuare con la progettazione esecutiva da concordare con la sovrintendenza e per le motivazioni già adotte nei casi precedenti. L'intervento 263, un finanziamento del PNRR, la realizzazione del nuovo asilo toniolo, in questo caso viene aumentato di 125.000 euro, portando il nuovo totale a 1.690.000 per ridefinire il quadro economico di progetto. L'intervento 303, il sipario tagliafuoco del Teatro Verdi, attualmente previsto per 100.000 euro nel 2022, 2 viene traslato nell'annualità 2023. L'intervento 305, manutenzione e ristrutturazione, in questo caso edifici ERP, viene aumentato, come dicevo in premessa, questa era una delle motivazioni principali, di un milione di euro, quindi passa dall'importo iniziale di un milione all'importo che andremo a variare di due milioni di euro, per necessità appunto di intervenire in maniera massiva sugli edifici sfitti dell'edilizia residenziale pubblica. L'intervento 307, realizzazione arturbani e relativo parcheggio pubblico via Marcatella, via Le delle Piagge, per 722.643 euro, attualmente previsto nel 2022, anche questo traslato in questo caso nel 2024, per poter compensare tutti quegli equilibri che poi fanno parte anche delle due successive annualità, ovvero la 23 e 24, come in questo caso. Poi ci sono, come detto, i nuovi interventi, che in questo caso sono tre, quindi inseriti ex novo all'interno del triennale delle opere pubbliche, il 348, miglioramento di sicurezza stradale, sempre ex articolo 208 del Codice della Strada, viene inserito per 370 mila euro per effettuare interventi di miglioramento della sicurezza stradale, all'interno di questo sarà finanziato con proventi le sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada, tutti quegli interventi che sono comunque legati alla miglioramento della sicurezza stradale. L'intervento 349, ripristino impianti elettrici al Teatro del Calambrone, viene previsto ex novo per un importo di 98 mila euro per poter effettuare il ripristino degli impianti elettrici al Teatro Calambrone, questa è una vicenda della quale abbiamo parlato da tempo e sarà realizzato nell'ambito dell'accordo quadro per gli impianti elettrici, trefonici e speciali, del quale abbiamo parlato anche nell'ultima variazione. Tale accordo dell'importo di 998 mila che prevedeva per l'anualità corrente l'importo di 80 mila euro e per il 23 quello di 500 mila euro e per il 24 418 mila euro, come detto, per poter realizzare l'intervento sul Calambrone viene modificato con la ridistribuzione degli importi, quindi andando a riassumere nel 22 si passa a 178 mila euro con il detto incremento di 98 mila euro, nel 23 402 mila euro con il decremento dei corrispondenti 98 mila euro, mentre l'anualità 2024 l'importo di 418 mila euro, restando pertanto invariato il totale complessivo che ho già menzionato di 998 mila euro. E l'altro intervento, l'ultimo dei tre introdotto ex novo, è quello 350, impianto di condizionamento degli spogliatori della sede dei vigili urbani che vede un importo di 95 mila euro per realizzare appunto l'impianto di condizionamento sul detto. Preciso, terminando questa prima parte dell'esposizione, che gli interventi programmati nell'anualità successivo, ovvero 2023-2024, come già anticipato, sono comprensivi della realizzazione dell'intervento 236, realizzazione del nuovo scalo dell'Arno, del 303 Teatro Verdi Sipario Tagliafuoco e dell'intervento 307, realizzazione arti urbani e relativo parcheggio pubblico in via Maccatella, come peraltro già previsto nella programmazione 23-25 adottata con delibera di giunta numero 255 del 13 ottobre scorso, attualmente in corso di pubblicazione. Questo per quanto riguarda il piano triennale. La seconda parte, come detto, riguarda invece la quarta variazione del programma biennale acquisizioni beni e servizi, dove si evidenzano le variazioni di spesa ai singoli acquisti e si indicano nuovi acquisti proposti, così come abbiamo fatto con i lavori pubblici, la illustrazione è divisa in due. La prima parte, gestione caniglie e servizi connessi, modificato con la terza variazione al piano degli acquisti 22-23, per quanto riguarda la durata degli importi. Per mero errore materiale sull'allegato 2 della delibera è stato indicato un importo anno di 134.825, quello complessivo di 1.081.600, il luogo dei valori corretti che andiamo a modificare con questa delibera di 103.125 per l'importo anno e 828.000 per quello complessivo, quindi si va a sanare un errore materiale nel riportare le cifre che era stata fatta all'atto della delibera. Il secondo servizio di organizzazione eventi e festività natalizie e 31 dicembre anno 2022, la direzione 11 ci richiede di modificare l'importo dell'acquisto del servizio per questi eventi portandolo da 90.000 a 120.000. Il terzo PNRR, il progetto PINQUA, via Rindi, via Piave, opere di urbanizzazione, percorso, parcheggio, scambiatore, via da Vinci, largo cocco, griffi, piazza Manin, servizi di ingegneria, è relativo appunto ai famosi servizi di ingegneria, quindi gli incarichi professionali relativi agli interventi che ho menzionato. Inizialmente previsti per l'importo di 104.676 e suddivisi in servizio di ingegneria per la progettazione strutturale PTFE, servizio di elaborazione grafica e servizio verifica PTFE su richiesta della direzione 14, vengono invece limitati a, quindi rispetto alla precedente suddivisione submenzionata, vengono limitati a servizio di ingegneria per la progettazione strutturale PTFE dell'importo di 74.676 e servizio di verifica PTFE dell'importo di 30.000 euro, quindi ancora per un importo complessivo di 104.676 come all'origine ma con una suddivisione interna diversa. Così come il PNRR M5C2, intervento per la realizzazione del nuovo centro natatorio, sarebbe la nuova piscina comunale inizialmente previsti per l'importo complessivo di 157.000 con relativa suddivisione che viene modificata con 111.000 per servizio per la progettazione opere strutturali impiantistiche elettriche, meccaniche e impianti speciali, 9.000 per incarico di elaborazione grafica e rendering progetto architettonico, 37.000 per servizio di verifica del PTFE che sarebbe piano tecnico finanziario ed economico per 37.000 euro, quindi l'importo complessivo rimane anche in questo caso invariato pari a 157.000 vedendo una diversa suddivisione. Sempre incariche per il PNRR, quello successivo incariche esterne di progettazione e verifica relativi direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi alla ricostruzione dell'asilo toniolo, su richiesta in questo caso della direzione 06 viene rivisto l'importo dell'acquisto del servizio e dall'importo di 177.000 viene portata a 286.000, quindi in questo caso invece non abbiamo un'invarianza ma abbiamo un incremento di 109.000 euro a seguito della ridefiniazione del quadro economico del progetto che si porta dietro la ridefiniazione anche degli importi essendo ad essi proporzionali della progettazione. L'importo è ricompreso nel quadro economico dell'intervento 263, sempre da ricordare, finanziato con fondi PNRR. Il successivo PNRR, nuovo ampianto sportivo Polipalente e località CEP, come avete visto, servizio di ingegneria, era previsto un solo servizio di ingegneria unico di 150.000 euro, viene variato su richiesta da direzione 14 in questo modo, servizio per la progettazione esecutiva 125.000 euro, servizio per la verifica del progetto esecutivo dell'importo di 32.000 euro, quindi per un importo complessivo di 157.000 euro, anche questo è da ricordare ricompreso nel quadro economico dell'intervento 311 del piano delle opere 22 e 24, anch'esso cofinanziato con fondi PNRR. Termino con quelli che sono i nuovi acquisti previsti dal piano biennale secondo questa variazione, ovvero fornitura e installazione in Piazza Martiri della Libertà del manufatto denominato Edicola Libera, come ricorderete quella cosa che va da adempiere anche a una richiesta della direzione 14 per l'acquisto di un manufatto da destinare all'edicola e da installarsi in Piazza Martiri della Libertà in ricordo appunto delle vittime e della mafia, come da accordo preso a suo tempo dal sindaco con anche l'Associazione Libera. L'acquisto poi di attrezzature e di lettura targhe, quelle che servono per il controllo della circolazione stradale, in questo caso su richiesta della direzione 08 in previsione di acquisto di attrezzature e di lettura targhe per potenziare le attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale per un importo di 364 mila euro finanziato, come altri che abbiamo visto in precedenza, con delle sanzioni amministrative ex articolo 208 codice della strada. L'acquisto poi di un'automezzo fuoristrada per la protezione civile per un importo di 45 mila euro motivato dalla necessità di sostituzione dell'attuale mezzo per malfunzionamento ormai obsoleto e per concludere Ducato Fiat combinato sette posti normodotati e due posti per persona in carrozzina leggo come scritto in maniera letterale su richiesta della direzione 13 previsto l'acquisto di questo furgone Ducato così composto, sette posti normodotati e due persone in carrozzina in esecuzione dell'indirizzo fornito dalla delibera di giunta 285 del 10 novembre 2022 di utilizzare le risorse ricevute dalla regione toscana. Qui appunto partecipammo a un bando della regione toscana, lo compilai personalmente, era poi veicolato tramite la società della salute che servirà poi anche per le attività sportive delle nostre associazioni, dovendolo noi prima acquistare e poi dandolo appunto mediante degli atti in uso a chi ne avrà la necessità per permettere anche a persone in carrozzina di essere trasportate per gli eventi sportivi. Tutto il resto come ogni volta resta invariato rispetto a quello che avete votato la volta scorsa. Grazie. Grazie a lei Assessore, ora se vogliono intervenire i presidenti o alcuni commissari, c'è anche l'ingegnere Antonella Meni eventualmente per dare le risposte tecniche. Se qualcuno chiede la parola, vedo se ho lasciato, non c'è nessuno che si prenota, non vedo nessuna manina, se magari uno vuole alzare la mano, se vuole parlare, mi sembra che non ci siano interventi. No, Aletta, Francesco Aletta, capigruppo, prego. Sì, c'è la prima del consigliere Buscemi però, presidente, che ha alzato la mano. Io ho soltanto una chiosa, innanzitutto un rarregramento, a parte su tutti i lavori in generale annunciati dall'assessore. Quello che mi preme, insomma, evidenziare sono tre, diciamo, tre aspetti che mi restano più impressi. Poi magari in consiglio comunale farò altre disertazioni, barra, divagazioni, innanzitutto quella della realizzazione della nuova piscina, no? Ma che, tanto che se ne parla, se ne sente parlare, insomma, quindi si creano, diciamo, le premesse per che questa venga realizzata. La cittadella, la chiamata, no? Come la chiamata l'assessore, insomma, comunque la piscina per intendersi. Poi riguardo, insomma, all'impianto di condizionamento della caserma della Polizia Municipale. Io non posso, diciamo, non evidenziare che non si tratta di una struttura vecchia, insomma, è una struttura nuova su cui dobbiamo mettere nuovamente le mani, insomma, perché è una struttura che è costata tanto, tanto, e che purtroppo sin da subito ha visto l'amministrazione comunale, diciamo, doverci mettere altri soldi, altri soldi, perché probabilmente quell'immobile non nasce per fare la sede alla Polizia Municipale, che certo aveva bisogno di una nuova sede, certo ne aveva bisogno di una nuova sede, ma, diciamo, nasce con altre destinazioni, che poi sono state, diciamo, cause di forza maggiore, diciamo, ridimensionate e meno male che c'è stata la Polizia Municipale che ha preso un piano e mezzo, due piane, addirittura più semi-interrato, ma già il semi-interrato, come voi vi ricordate, c'era tutta una serie di, diciamo, di problematiche e compagnia bella. Ora anche nel semi-interrato erano collocati anche i spogliatoi degli agenti, o almeno mi pare quelli della sezione maschile, non mi ricordo se è anche la sezione femminile, però insomma, comunque voglio dire, oggi su un edificio nuovo, nuovo, noi siamo costretti a metterci nuovamente le mani, più che le mani le finanze, quindi distogliendo delle risorse che potevano essere investite altrove. Lo dico perché si faccia una riflessione, no? Insomma, perché poi vedo che è già partita la campagna elettorale e che queste cose però stentano ad essere, diciamo, evidenziate. E poi, infine, mi piace parlare di questa, diciamo, vicenda del chiosco di Libera che è stato, che sarà realizzato in Piazza Marti della Libertà, cosa che, per la quale il sindaco ha già preso un impegno, evidentemente non sufficiente, per chi non la vedeva, diciamo, non la vedeva in questa maniera, e invece vedo, confermo che il sindaco ha mantenuto il suo impegno con questa variazione dal DUP e le variazioni di bilancio che facciamo, insomma, quindi queste sono le cose che più, diciamo, dopo l'intervento dell'assessore Latrofa mi sentivo, insomma, a qualche modo, qualche modo di dire. Grazie. Grazie a lei, capogruppo Fuscemi. So se l'assessore Latrofa può fare delle precisazioni subito, vuole ascoltare prima il capogruppo Francesco Letta per dare risposte a tutti insieme. Bene, prego, assessore, se vuole la parola, volentieri. Mi pare che le osservazioni di Fuscemi siano, appunto, delle osservazioni puntuali, ma non pongano dei quesiti, quindi andiamo pure avanti. Non mi sembra giusto, Riccardo, che tu abbia chiesto qualcosa. Andiamo pure avanti, grazie. Bene, ringrazio lei. Allora do la parola alla consigliere capogruppo Francesco Letta, prego, la facoltà, grazie. Sì, grazie, Presidente. Io faccio prima alcuni quesiti, poi le considerazioni e le valutazioni le faccio in un secondo intervento. Prima volevo alcuni chiarimenti. Il primo era, perché non ne sono a conoscenza, in relazione all'intervento 61. Si dice che viene ridotto una parte del finanziamento, però l'assessore complessivamente, diciamo, è un'operazione tutta di storni all'interno del piano delle opere pubbliche oggi. Però si faceva riferimento all'acquisizione di un immobile di fair servizi. Volevo capire di che immobile si trattava e qual era lo scopo a cui si pensava di destinarlo, perché anche nella, ho visto che c'è una relazione del bilancio fatta dal dottor Sassetti, si parla generalmente di un immobile, non so se è lo stesso a cui si fa riferimento qui, l'importo sarebbe intorno ai 150.000 euro, leggevo nella relazione del dottor Sassetti, se ci chiarite qual è appunto l'immobile che viene acquistato, dov'è e con quali finalità. L'altra questione che volevo porre, sempre dal punto di vista puramente informativo, è all'interno della relazione invece per quanto riguarda l'acquisto, mi sento Assessore? No, sono io che non ho sentito il numero degli interventi, se lo puoi ripetere? Il numero 61 in cui si accenna all'acquisizione di un nuovo immobile di Fair Servizi, lì è scritto? Io 61 sinceramente c'ho piscina comunale, quindi ricontrollo, per quello non capivo. Eh sì, è all'intervento 61, c'è scritto piscina comunale, nella parte finale, nel penultimo rigo Assessore, c'è scritto che si fa riferimento all'acquisto di un immobile. Chiaro? Perfetto. Per quanto invece riguarda la relazione sull'acquisizione dei beni e servizi, erano alcuni quei siti. Uno, volevo capire l'importo per quanto riguarda il manufatto dell'edicola di Libera, perché è l'unico importo che non è indicato nella relazione, quindi se ci potete dare l'importo. E l'altra cosa che volevo capire, questo per mia mancanza di competenza, è come funziona, Assessore, il meccanismo sulle progettazioni. Nel senso che per quanto riguarda la questione dell'intervento specifico della realizzazione appunto della nuova piscina, sostanzialmente l'importo, se ho capito bene, per quanto riguarda i servizi di ingegneria, rimane lo stesso, 157 mila euro, esattamente quello di prima. L'unica cosa, correggetemi se sbaglio, se ho capito così, è che di fatto viene scorporato la questione della redazione del PEF. Cioè, mentre prima nei 157 mila euro si comprendeva tutta una serie di servizi, compresi il PEF, invece all'interno della ripartizione nuova che viene fatta, si contemplano solo tre dei servizi, ma si esclude il PEF. Io volevo capire quali erano le ragioni che avevano portato, come dire, di fatto a un aumento dei costi, che noi dovremmo pagare in più per poi avere anche il servizio che fa, un servizio che ci farà un PEF. Ne abbiamo parlato tante volte col dottor Bacciardi sulla difficoltà anche che molto spesso abbiamo di riuscire a fare dei PEF per le strutture sportive e molto spesso ci siamo dovuti anche appoggiare a società esterne. No, perché volevo capire qual è il meccanismo, perché magari noi partiamo con dei servizi che costano 20, poi diventano 30, poi diventano 40, poi diventano 50, quindi vorrei capire qual è il meccanismo e quali sono state le motivazioni che hanno portato a una rivalutazione economica, per cui bisogna mettere ulteriori servizi, in particolare sulla questione della redazione del PEF, che a questo punto mi sembra, se ho capito bene, escluso dai servizi che sono contemplati. Il terzo quesito che volevo fare, poi ribadisco, ritorno successivamente sulle questioni del, sulle considerazioni più politiche, riguarda invece, scusate, il quarto quesito, per l'assessore, riguarda il ritorno alla questione del piano delle opere pubbliche. Ho visto che la questione dell'intervento sul teatro Verdi, in particolar modo il sipario tagliafuoco, intervento 303, viene slittato di un anno, dal 2022 al 2023. Volevo capire se su questo tipo di intervento c'erano delle prestizioni che ci erano arrivate per la messa in sicurezza, oppure un intervento che era già programmato anche negli anni precedenti e che era slittato, qual era l'urgenza di questo intervento rispetto alle questioni, ribadisco, virgolette, lo dico da profano, di sicurezza del teatro stesso. Quindi volevo capire se questo era stato concordato anche col teatro stesso, la possibilità di slittare l'intervento, se avevamo delle prescrizioni entro le quali realizzare questo intervento. Mi fermo qui, Presidente, perché sono stato anche lungo e poi magari reintervengo. Va bene, grazie Commissario. Dalla parola adesso, lo so, Raffaele Natrofa vuole rispondere l'assessore o vuole far rispondere agli uffici? No, allora, diciamo, una risposta in parte la fornisco io, in parte sono risposte che possono, diciamo, domande alle quali possono dare risposta agli uffici. Allora, per quanto riguarda l'impianto natatorio, piscina, partiamo da quello, è la PNRR M5, eccetera, eccetera. In realtà sono 157 mila euro previsti fino ad oggi, prima della variazione, per progettazione, opere strutturali e impiantistiche, elettriche, meccaniche e impianti speciali. Redazione PTFE, incarico di elaborazione grafica e rendering, progetto architettonico, servizio di redazione del piano economico e finanziario e servizio di verifica del PTFE, che sulla richiesta della direzione 14 rimangono invariato come totale, ma vengono diversamente distribuiti. Quindi per rispondere il consigliere parlava della redazione del piano economico e finanziario. In realtà con questi 157 mila euro, poi potrà essere più preciso in questo caso, l'architetto Guerrazzi, se è presente, se no, non lo vedo, se no l'ingegner, sì, insieme all'ingegner Meini, perfetto. Dicevo, il totale rimane invariato, non è che aumenta. Da tenersi presente, che come abbiamo votato nell'ultima seduta, invece di variazione, come ben sapete, è aumentato il finanziamento a causa del famoso decreto che fortunatamente, insomma, ci ha fatto compensare. L'altro aspetto sul quale vorrei soffermarmi, perché poi sarà una vicenda che immagino verrà portata anche all'attenzione della prima commissione, è che noi su questo progetto abbiamo deciso di realizzare un appalto integrato. Questo l'avevo già detto in passato, però insomma, siccome sono termini tecnici, giusto per tradurli con chiarezza estrema, è quella tipologia d'appalto con la quale si va a gara con un progetto che non è di stadio esecutivo, come si fa di solito, di solito se è un progetto esecutivo va a gara, la ditta vince e realizza i lavori, a un ribasso e realizza i lavori. In questo caso è un appalto che intanto prevede sia la realizzazione che poi probabilmente ci sarà la parte appunto della gestione con il piano economico finanziario relativo, ma soprattutto non andando a gara con lo stadio esecutivo prevede che l'esecutivo e la realizzazione dei lavori sia fatto da chi vince la gara, cioè chi vince la gara c'è una squadra di progettisti che faranno il progetto esecutivo e c'è una squadra di invece una tipica ditta di costruzione che realizzerà l'opera. Questo per dire che sul tema del piano economico finanziario poi c'è una specificità che è quella ovviamente che la conduzione e il governo di questo processo rimane e così è necessario che avvenga in capo al Comune di Pisa, il quale poi avrà tutte le possibilità di verificarlo in sede appunto di gara e quello sarà anche uno degli oggetti di questa gara che ripete è una gara composita e diversa dal tipico appalto pubblico e su questo poi insieme alle altre cose lascio per ulteriori risposte la parola all'architetto Guerrazio. Per quanto riguarda il sipario tagliafuoco, che come diceva giustamente Auletta è uno slittamento dal 22 al 23, in realtà per quanto riguarda delle prescrizioni, come prescrizioni in sé ci sono da tantissimo tempo perché addirittura ce lo siamo ereditato così come altre vicende, però non c'è, se questa è la domanda come penso, una data che non ci consentirebbe tanto per capirsi di iniziare la stagione teatrale il che comporta che possiamo slittarlo al prossimo anno anche perché come detto in premessa 22 in realtà oggi siamo a novembre, siamo al 21 di novembre e di conseguenza detto questo per quanto mi riguarda è un'opera che comunque necessita e quindi è sicuramente un obiettivo del 2023 poi metterla in campo e realizzarla, si tratta di un sipario in acciaio, ha un meccanismo importante che ha una pesantezza proprio come peso in chili, diversa da quelli che sono le nuove tecnologie e che ha sempre visto ogni anno ovviamente la verifica da parte dei responsabili della sicurezza che sono da sempre nominati dal teatro però che ci viene segnalato dal tempo che deve essere realizzato, quindi il motivo è questo, non c'è la diciamo la paura, l'evenienza che salti qualcosa della stagione teatrale però per quanto mi riguarda rimane un'opera importante che nel 23 dovrà essere fatta. Gli altri aspetti, il primo risponde meglio sicuramente penso Sassetti o anche il sindaco in prima persona sul fabbricato di fair servizi, io mi sono occupato dell'aspetto, ecco perché all'inizio non capivano dell'aspetto relativo all'opera pubblica però risponderanno loro e per quanto riguarda invece l'importo della diciamo edicola di Libera anche in questo caso potrà specificare credo meglio il Sassetti. Credo per la mia parte di aver risposto passerei la parola a Guerrazi e a Sassetti per concludere con le risposte. Allora prima di tutto farei intervenire Guerrazi dal punto di vista tecnico che aveva chiesto l'assessore, prego, lo vedo che è presente per cui se vuol prendere la parola, prego. Per primo intervengo io e integro la relazione, il piano degli acquisti con l'importo dell'edicola che è di 96.000 e anche un altro manca l'importo del Ducato Fiat Combinato che ha l'importo di 54.720. Domani invierò una nota formale all'ufficio del Consiglio in modo tale che sia agli atti questa integrazione. Per quanto riguarda il piano economico finanziario verrà redatto nell'ambito dello studio di fattibilità tecnico-economica perché attraverso questo studio verranno fuori elementi quali la tipologia degli impianti che utilizzeremo, i consumi che saranno a carico del futuro soggetto gestore, i metri quadrati alle superfici per cui in quella fase avremo degli elementi più di dettaglio che potranno essere completi con lo studio di fattibilità tecnico-economica. Se posso vorrei anche aggiungere che la motivazione della diminuzione delle risorse è identica per tutti gli interventi che sono diminuiti. In altre parole le diminuzioni vanno a compensare come ho scritto nella relazione sia gli incrementi degli interventi esistenti che le varianti che devono essere adottate che l'acquisto dell'immobile. È ovvio che non saranno solo quelli della piscina voglio dire, sono tutte le diminuzioni che per servizi infatti non è rammentata soltanto sull'intervento 61. Va bene, allora ringrazio la dottoressa Armini e il dottore Villazzi. È soddisfatto della domanda? Volevo sapere il capogruppo Auretta. È soddisfatto della risposta? Eh sì, aspettavo che completasse credo qualcuno sull'immobile. Allora? Aveva chiesto anche qual era l'immobile se non ho capito male. Sì, volevo capire di che immobile si trattava, se era questo qui, di chi è, qual era la finalità. Per l'intervento 61, mi sembra, no? Allora, è citato nell'intervento, dall'intervento 61 ho dessunto che si tratta di un immobile e di far servizi, perché non ho capito, cioè è l'unico posto dove è citato. Ho citato la relazione di Sassetti in cui parla di un, l'acquisizione di un immobile e non capisco se, cioè non so se penso che sia questo e quindi chiedevo che immobile era e con quale finalità veniva acquistato. Allora, possiamo rispondere anche Grazzi? Credo che, grazie, forse il sindaco è la persona più vedona. Allora, si tratta, consigliere Auletta, di uno dei fondi che sono sotto la galleria Gramsci che sostituiscano l'immobile che adesso è incomodato d'uso per uso dei vigili urbani. Ringrazio il sindaco Vincere Conti e approfitto per salutarlo. Quindi mi sembra che gli è stato dato tutte le risposte che va chiesto Auletta. Quindi se qualcun altro vuole intervenire e fare delle domande, se no passiamo alla parte seconda, quella della relazione del sindaco. Auletta, giro urbani o per anche, e per scusi, per come punto di informazione del punto turistico. Bene, grazie per la precisazione. Quindi passiamo adesso, non ti chiede altri interventi, all'illustrazione. C'era Nerini, presidente, e poi anch'io. C'è Nerini che ha fatto la richiesta. Prego, Nerini. Sì, mi sono un po' incassinato con l'aggeggio qui. Comunque, io volevo sottolineare una cosa, perché quando si arriva a mettere i soldi per i servizi di ingegneria, per la presentazione esecutiva e per la verifica del progetto esecutivo, vuol dire che tutto si sta completando, nel senso si sta già partendo con le cose che si fanno, e si fanno bene, perché se c'è anche il controllo, si fanno bene. E questo grazie all'impegno di tutti i ruffici, che è notevole, e che sono progetti nostri che magari hanno ricevuto soldini, e abbiamo visto che hanno ricevuto soldini anche in maniera abbondante, e per cui ha fatto bene l'assessore a evidenziare questa cosa. E anche un'altra cosa, il discorso che diceva Muscemi sull'edicola spostata, che sembrava, quando è stata spostata, che finisse il mondo, e invece ci siamo, è stata presa in considerazione, il sindaco si è impegnato, per cui è bene che quella vicenda finisca avendo qualche cosa di pulito, di decente, di fruibile, ecco. Grazie. Ringrazio lei, Nellini, figura come Presidente della Prima Commissione, e volevo ringraziare a questo punto il dirigente Marco Guerranzi, per quanto era anche la P.O. Antonella Ammini, per il lavoro svolto, e passerei a un argomento successivo. Presidente, io volevo intervenire, ho chiesto la parola per intervenire. Se abbiamo fretta non intervengo, però me lo segnalo. No, se non chiedevo, ma non, abbasso la testa per leggere, non ho visto la sua richiesta. C'era anche l'assessore che chiedeva la parola, Presidente. Anche prima di me l'hai chiesto, credo che sul Merini avesse chiesto. All'assessore a fare la troppo, ci mancherebbe altro. Perché nella premessa, giusto per rispondere alla premessa che aveva fatto sempre il consigliere Aloretta, che aveva detto che questa era una variazione solo di storno, ricordo allora che in realtà l'intervento 16 è aumentato di 100.000 euro, l'intervento 75 è aumentato di 50.000 euro, l'intervento 263 è aumentato di 125.000 euro, l'intervento 305 è aumentato di 1.000.000 euro, l'intervento 348 non c'era, quindi nuovi 370.000 euro, l'intervento 349 nuovi 98.000 euro, l'intervento 350 nuovi 95.000 euro. Quindi a fronte di storni che ci sono, e ho anche descritto nel dettaglio, quindi ovviamente non disconosco e ne ho, credo, dato anche le motivazioni, questa non è una variazione di solo storno, ma ci sono importanti cifre sui vari temi che vengono aumentate o inserite ex novo. Poi giustamente la valutazione su questo, è evidente che ciascuno dalla propria interpretazione ci mancherebbe altro, la rispetta al massimo, però volevo solo sottolineare questo aspetto. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Prego Alretta, visto che hai chiesto la parola, la facoltà è il commissario. Sì, grazie a lei, partendo da questo punto, io ho utilizzato la parola principalmente da storni, leggo nella relazione del dottor Sassetti, addirittura lui usa la parola esclusivamente da storni, quindi diciamo, però la sostanza mi sembra che sia, leggo la relazione, l'allegato è della relazione, la previsione della spesa in conto capitali, sono interessate esclusivamente da storni. Ecco, mi ero limitato semplicemente a leggere la relazione del dottor Sassetti, anzi non avevo detto neanche esclusivamente, quindi questo era il punto. Poi, diciamo, dove ci sono delle risorse aggiuntive, magari alcune ci sono, poi lo vedremo nella illustrazione del bilancio, perché sempre l'assessore quando gli chiedo le fonti finanziamenti dice che non è in materia sua, oggi vedo che invece diventa materia sua, ne prendo atto positivamente. Quello che diciamo metto in evidenza sono due questioni, sulla questione dell'edicola poi avremo modo di parlarne rispetto alla questione politica che ha significato, poi, diciamo, c'è anche un protocollo che ha sottoscritto il sindaco, era difficile che non rispettasse un protocollo sottoscritto, quindi questo, al momento in cui viene sottoscritto un protocollo, ciò non, dal mio punto di vista, non cambia la sostanza, come dire, politica rispetto alla decisione di togliere, come dire, un bene confiscato alla mafia dal luogo in cui questo si trovava, ma questo avremo modo di discuterne in Consiglio Comunale. Io metto in evidenza alcuni punti, cioè l'assessore ci spiegava che una serie di interventi, in particolare per quanto riguarda la manutenzione delle scuole, non vengono ridotti gli importi, perché di fatto, essendo iniziato l'anno scolastico, non è più possibile realizzarli, anche perché mancano ormai un mese alla conclusione dell'anno. Questo però, a mio avviso, pone un tema rispetto poi, come dire, l'ho già detto altre volte in altre occasioni, rispetto all'efficacia nella spesa che noi abbiamo, perché se faccio un esempio, diciamo quello maggiore, sull'intervento 43 delle scuole medie, abbiamo stanzato 860 mila euro e ne riduciamo, lo riduciamo l'importo di 375 mila euro, vuol dire quegli interventi che avevamo programmato, nei fatti, se ho capito bene, questa è la domanda, non si è arrivati in tempo a realizzarli, è la domanda, oppure si è ritenuto che, essendo stati fatti, non erano più necessari, cioè voleva una specifica assessore, su questo punto, cioè non si è arrivati in tempo, perché è iniziato l'anno scolastico, perché ora il tempo è insufficiente, oppure sono degli interventi, che poi comunque nel 2023 dovrebbero essere fatti, lo faccio, assessore, questa domanda, sia sulle scuole medie, sia sulle scuole elementari, dove la riduzione dell'importo è, diciamo, sicuramente minore, perché sono 200 mila euro, e quindi sono interventi, che comunque devono essere fatti, e ora rinveiamo, oppure che invece non saranno più necessari, l'altra questione, diciamo, più di carattere generale, perché il grosso, quindi al netto di una serie di interventi, che ci possono essere, la questione dell'impianto elettrico a Calambrone, dei 98 mila euro, che di fatto, come dire, prosegue quel percorso di riqualificazione del teatro, che assessore non mi ricordo, a quanto ammontava la variazione, quando si è pensato di fare, quindi si è investito sulla questione della cancellata, in due o tre variazioni di bilancio fa, la vera questione è l'aumento del finanziamento sulle case popolari sfitte, cioè quest'altro milione di euro. Qui però sarebbe importante, io lo richiedo ufficialmente, Presidente, avere, l'ha già posto, già la questione anche in Consiglio Comunale, in occasione della discussione sull'emergenza abitativa, avere un report però da APES su gli interventi che effettivamente vengono realizzati con i fondi che il Comune ha trasferito, perché noi abbiamo una, come dire, un disallineamento fra i soldi che vengono trasferiti e poi quanti alloggi abbiamo, cioè al netto che c'è, come spiega sempre bene il sindaco, una rotazione fisiologica, perché purtroppo tante persone, anche delle case anziane muoiono, però noi abbiamo un numero che non è fisiologico, è un numero patologico, se si mantiene quasi al di sotto di poco dei 200 alloggi vuoti, cioè noi ne abbiamo oggi 171 alloggi vuoti, Assessore, come sa benissimo. Bisognerebbe riuscire a capire come è possibile, quali sono i tempi reali di intervento da parte di APES per rendere questi alloggi fruibili. Noi abbiamo dalla relazione di APES un intervento, un costo medio, secondo quello che ci è stato detto anche dall'ex presidente di APES, un costo medio tra i 13-15 mila euro d'appartamento, quindi significa degli interventi di media rilevanza, quindi non si tratta di appartamenti che devono essere abbattuti e ricostruiti di sana pianta, ma al contempo invece abbiamo questa mancanza fisiologica di recuperi in tempi brevi, anche sulla discussione che abbiamo avuto in Consiglio Comunale non abbiamo avuto nessuno, io l'ho chiesto ripetutamente, ma i primi alloggi, visto che ad oggi il Comune ha zero alloggi a disposizione per l'emergenza abitativa, quando potranno essere messi a disposizione? E su questo non abbiamo avuto una risposta a gennaio, febbraio, quindi io presidente vorrei un report prima dell'approvazione della variazione da parte di APES di come sono stati spesi, quanto, come e come si traduce il numero di appartamenti, le risorse che in questa Consigliatura l'amministrazione ha trasferito ad APES dal 2018 a oggi. Lo dico perché io, continuo a ripetere sempre un elemento, non ho nessun problema, anzi ritengo e riconosco a questa amministrazione di aver investito sulle case popolari in maniera assolutamente imparagonabile rispetto a quella precedente, perché quello che noi avevamo nelle scorse variazioni, nella passata giunta, erano 50-100 mila euro, qui abbiamo un investimento di un milione di euro, di un milione più un milione di euro, quindi di due milioni complessivi. È evidente che questo milione aggiuntivo non potrà essere speso assessore entro il 2023, perché se non riusciamo, non so se abbiamo neanche speso il milione precedente, quindi questo milione di fatto servirà per il 2023, a meno che lei non mi dà notizie di carattere diverso, cioè questo milione aggiuntivo ha una capacità da parte di APES di spesa da oggi, dal 29 di novembre, quando approveremo la variazione, al 31 dicembre, che mi sembra abbastanza improbabile. Però credo che avere una reportistica dettagliata per capire come queste risorse vengono effettivamente spese possa essere utile sia per l'amministrazione sia anche per i consiglieri. Bene, quindi se l'assessore trofa come intanto dare qualche risposta alle domande di Olit e poi se si riserva di informarsi e darle successivamente, prego, la facoltà, grazie. Grazie Presidente. Allora, in prima battuta, riferendosi alla parola storno, che forse io avevo dato un significato per far capire anche alle persone che ci ascoltano, che non sono magari tecnici del bilancio della contabilità pubblica, si riferisce a uno spostamento, di uno stanziamento, dalla voce di bilancio ad un'anca. Quindi non volevo che fosse percepito con l'accezione di diminuzione di importi a fronte di non aumenti ulteriori. Quindi uno storno in realtà è all'interno di una cifra e questo è come dire una variata distribuzione di spesa e questo in effetti quello che è oggetto, come ha scritto correttamente Sassetti. Quindi io mi riferivo a questo, preferisco precisarlo, anche per chi magari ci ascolta che non è esperto come noi di bilancio pubblico. Per quanto riguarda la prima domanda, riguarda gli importi relativi alle scuole, su questo a mio avviso se si vuole essere intellettualmente onesti e fare anche una, diciamo, critica o comunque un'analisi politica di quello che è stato fatto e che stiamo per terminare di fare con questo mandato, dobbiamo guardare quello che è stato investito nell'edilizia scolastica in questi anni. Così come diceva Auletta, e mi fa piacere che lo riconosca, che sul comparto dell'edilizia residenziale pubblica sono stati incomparabili i finanziamenti, i spesi, comunque le opere realizzate rispetto al passato, non per alcun tipo di polemica, ma solo per evidenziare quanto è stato fatto in questi anni, noi abbiamo politicamente deciso di investire somme importanti nell'edilizia scolastica. E questo poi sarà certificato con un bilancio anche di fine mandato, nel quale daremo delle cifre ben precise. Quindi, insomma, Lungi da noi vuole dare un segnale nel quale non vogliamo investire in edilizia scolastica. Per rispondere alla domanda, e quindi i numeri parlano per noi, così come parlano per le case popolari, parlano per l'edilizia scolastica. Sono inconfrontabili e sono cifre ingenti. Da aggiungere a questo, che in questo ci è venuto, tra virgolette, in aiuto, la vittoria che do merito, in questo caso il ringrazio agli uffici comunali, di tanti bandi, come voi ben sapete, anche dall'ultima variazione. E questo è un fatto che aumenta notevolmente ed ulteriormente gli investimenti fatti nell'edilizia scolastica. E che ci consente anche, in casi come questi, dove la motivazione, l'avevo detta precisa e la ripeto, quindi non è da scriversi alla non essere stato in grado di mettere in campo delle progettazioni, ma alla scelta di pianificazione, gli intervenuti grossi finanziamenti dall'esterno sull'edilizia scolastica e anche, è chiaro, l'inizio dell'anno scolastico, ci permette di stornare queste cifre, sia dalle scuole medie, come ricordava, sia dalle scuole elementari, perché in realtà su questo comparto noi abbiamo investito tantissimo. E questo, in un bilancio generale, anche finale di un'amministrazione comunale, io penso che debba essere correttamente evidenziato. Poi si può sempre fare meglio, però per rispondere alla domanda, non erano delle motivazioni legate al non essere riusciti a fare dei progetti, per sì quelle che penso di avere esplicitato. L'ultima cosa invece riguardo al report, no, no, ci tengo a dire che io non ho mai detto in passato che non mi interessano le fonti di finanziamento. Ho detto che, essendo oggetto di altre deleghe, avrebbero risposto in maniera più precisa gli assessori, in questo caso il sindaco in prima persona, che alla delega al bilancio riguarda le fonti di finanziamento, ma è evidente che mi interessano e mi sono sempre interessate. E anche oggi, però, non credo di aver parlato delle fonti di finanziamento, come sono il solito fare, mantenendo appunto questa distinzione, per delega, che poi comunque ci vede riuniti in una giunta, nelle quali è chiaro che parliamo tutti sia delle fonti di finanziamento che degli investimenti da fare. E di questo mi riallaccio all'ultima domanda, relativamente al report, che insomma, secondo me è una richiesta lecita, è una cosa che interessa a tutti, quindi non è una mia delega questa qui, non riguarda le mie deleghe, però trasmetterò all'assessore Poli questa richiesta e formalizzerà all'APES, piuttosto che non abbia già questi dati, l'assessore stesso e il sindaco, e poi verrà risposto, credo, puntualmente anche a questa domanda. Grazie. Eccoci qua, mi sembra che abbia risposto a tutto l'assessore, quindi se ci sono altre domande da altre persone, prima che passi alla parerzia di bilancio, credo che nessuno si prenota, e quindi a questo punto, vedo il sindaco che è già pronto, illustrazione sulla proposta di deliberazione avvento come oggetto, bilancio di previsione 2022-2024, variazione numero 74-2022. Dalla parola al sindaco Michele Ponti, prego nella facoltà, grazie sindaco. Grazie presidente. Dunque, allora, se posso aiutare, prima il Consiglio Letta chiedeva la questione degli investimenti sulle case popolari, esiste un report che le possiamo tranquillamente fare avere, vedendo dove si sono investiti i soldi, che insomma sono stati diversi milioni di euro in questi 5 anni, 4 anni, quasi 5 anni, e in un ultimo questo milione che viene emesso attualmente, e quindi vedere dove si è investito il progresso e capire dove sono previsti le risorse, che comunque sono sempre con Sera Oletta negli alloggi di risulta, che come sa benissimo, sono stati sistemati circa 230 appartamenti in questi anni, mi parevi 227 per l'esattezza, e ce ne sono atti 43 sostanzialmente in lavorazione, che saranno pronti entro la fine di gennaio, quindi si va a un numero abbastanza importante. Il problema è che nel passato, il primo anno, ho trovato solo 100 mila euro per gli alloggi di risulta, e quindi essendo tanti, non siamo riusciti ancora a riprendere l'allineamento. Ogni anno poi, come sa, a consigliare ci sono tanti anziani che purtroppo passano ad altra vita, e fortunatamente in questa città la scienza sociale ha funzionato, i figli magari hanno un appartamento di proprietà, o una casa di proprietà, e quindi riportano le chiavi dell'appartamento dei genitori, e quindi sono diverse, anche nell'ultimo anno siamo, torno a, non vorrei, non un report davanti, ma insomma circa 80 alloggi riconsegnati, quindi veramente, veramente tanti, comunque avrò modo di farli vedere anche quanti sono stati sistemati, dove, magari in quale quartiere, e quanti sono stati riconsegnati, sistemati, ma il saldo positivo o negativo, insomma, chiaramente è sempre a debito, se si può usare questo, questo tema, il problema vero, l'abbiamo detto tante volte, è che è mancato sempre una politica seria da parte dei governi di centro-sinistra, centro-destra, su questa vicenda, quindi noi abbiamo dovuto fare riferimento con risorse nostre, c'è qualche, qualcosa è stato sistemato, grazie a soldi della regione, ma insomma sono dei micro, dei micronumeri, rispetto a, a questi numeri importanti che sono stati sistemati. vediamo, vedremo anche di rimettere anche nel preventivo 2023 altre risorse, proprio per cercare di andare in questa direzione, la manutenzione ordinaria, in questo caso, piccola manutenzione straordinaria, nel momento in cui l'appartamento si libera, magari dopo 50 anni di assegnazione, è fondamentale, io credo che, spesso, no, si parla di consumo, di non consumo di suolo, di non cani di no, magari vale la pena prima sistemare questi, piuttosto che avventurarsi in cantieri, che poi sono anche di difficile gestione. Invece venendo alla questione della variazione bilancio, questa è l'ultima variazione di bilancio, che viene approvata entro il 30 di novembre, che è dato la data ultima di approvazione, quindi è consentita da adesso l'unico di contabilità, viene approvata il 29, avete appunto con il DUP, avete potuto capire insieme all'assessore della Trofa, quali erano gli interventi più importanti, che credo che non ci sia bisogno di ripeterli, anche perché vi ho ascoltato, insomma, l'assessore li ha illustrati uno per uno, cercando anche di dare le spiegazioni sia tecniche sia amministrative e politiche della Vicenza. Voci importanti, diciamo che noi abbiamo sostanzialmente da adeguare, perché qualche giorno fa è proprio il contratto del personale degli enti locali e quindi è stato firmato e ci sono gli arretrati dell'anno 2019, 20 e 21, arretrati contrattuali che sono applicabili al bilancio per oltre un milione di euro, quindi erano nell'avanza accantonato del 2021, però diciamo da abbiamo appunto questa quarta variazione abbiamo la possibilità di andare avanti, potevamo anche non metterli, magari fare scelte diverse, farlo di giunta e poi ratificarlo successivamente, ma insomma ci sembrava corretto una volta per tutte affrontare la questione. E poi ci sono maggiori entrate correnti di contributi che derivano dallo Stato per circa 800 mila euro, di cui ci sono 433 mila euro per il caroneggia e 360 mila euro per il contributo compensativo di minore entrate della riposa di soggiorno che come sapete dall'altro è rimasta invariata anche per l'anno 2022 e lo rimarrà anche nel 2023 e comunque non è stato appunto i ristori che ancora provengono dalla crisi pandemica. Queste ulteriori risorse consentono di diminuire la quota d'avanzo libero destinato alla salaria di una guardia degli equilibri e di poter destinare a spese di investimento quindi avendo una maggiore provvista per il finanziamento delle tante spese di investimento che sono state poi si ritorna al punto di partenza delle opere che abbiamo visto prima all'interno del Ducco io credo che le voci più importanti siano queste poi se c'è qualche domanda a disposizione se no c'è anche il ragionare capo che può darci una mano in questa commissione grazie grazie a lei sindaco se c'è qualcuno che vuole prendere la parola intanto saluto anche Daone Fabio che si è collegato avevo visto Trapani ma ora non lo vedo più grazie c'è un problema di collegamento c'è qualcuno che vuol fare delle domande inerenti alla dichiarazione che ha fatto adesso il sindaco Veccheri Conti posso presidente ho spento la telecamera perché ho una cattiva connessione ora allora se nessuno vuole sentite Paulitta prego viene un po' malvettata la voce Paulitta Sì spegnete la telecamera che mi è saltata la connessione volevo solo un chiarimento dal dottor Sassetti per quanto riguarda questi contributi statali per quanto riguarda il ristoro della tassa di soggiorno se ho letto bene perché ora questo è il ristoro inerente l'annualità 2022 o 2021 e se queste risorse sono risorse comunque vincolate cioè questo ristoro noi lo dobbiamo comunque utilizzare per le finalità inerenti la tassa di soggiorno cioè le iniziative di promozione turistica e culturale magari la dicitura esatta non è questa ma sostanzialmente per questo scopo ecco volevo un chiarimento su questi contributi statali in particolare questo relativo alla tassa di soggiorno ringrazio Paulitta prego se vuole prendere la parola Sassetti per le specifiche che ha chiesto Paulitta grazie grazie Presidente allora per quanto riguarda l'imposta di soggiorno questo è un contributo un po' effettario che viene erogato dal Ministero dell'Interno a valere sull'anno 2022 e che riguarda quindi le perdite di getto stimate a livello nazionale dell'imposta di soggiorno che impattano a causa della pandemia sull'esercizio in corso infatti la cifra è abbastanza minore di quelle che venivano erogate negli anni 2020 2021 per quanto riguarda la destinazione come tra l'altro ho scritto anche nella relazione non è un problema destinare queste somme alla copertura degli oneri relativi a tutte le varie tipologie di spesa per lo sviluppo del turismo e servizi adesso connessi che prevede la norma in quanto a fronte di un getto dell'imposta ordinario di circa 1.700.000 euro l'anno 1.800.000 a seconda delle annualità la spesa finanziabile va nell'ordine di 7 milioni e quindi eventuali maggiori entrati su questo fronte o per recupero dell'evasione o per trasferimenti compensativi come nel caso di specie sono chiaramente assorbiti dal livello delle spese finanziabili che è di gran lunga superiore questo è avvenuto anche nel 2020 e nel 2021 e si riproduce ugualmente nel 2022 grazie alla dire capo se senti se ci sono altri interventi o altre richieste mi sembra che nessuno Auretta lei nella connessione mi sembra non c'è più partita Auretta a questo punto direi se i presidenti nella persona di Maurizio Nerini e di Caldo Buscemi vogliono intervenire per dire altro io ringrazierai gli uffici a questo punto e chiuderei la commissione congiunta di oggi e ci rivediamo presto un saluto a tutti buonasera si può chiudere la diretta la registrazione grazie buonasera arrivederci buonasera arrivederci buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera